Allora Antonio questo baglietto sarebbe? Questa è taccatursa, la mitica taccatursa ormai questa sappiamo tutto eh? Tanto credo si conosca. Con questa ci diverti? Sì sì infatti l'ho rimessa dentro l'ho ripreparata e quest'anno mi ci diverto tanto serve a me per ruzzare Sì sì credo faccia solo il protocollo e poi vediamo se portarla a fare qualche paliotto fuori tipo pomarzo via. Sì bravo pensavo di portarla la pomarzo è perfetta eh sì Tacatursa e questa è una vallina in piazza ci va ovviamente in maniera splendida eh? Eh sì ok dai tacatursa bellissima Ciao 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 Ciao